Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcast. La cosa interessante di artisti che hanno fatto decine, barra centinaia di hit, ma che hanno proprio dei dischi che sono una collezione di canzoni importanti e che poi non è come magari artisti che hanno lanciato una hit sola che poi quando passa il tempo tu vai nei loro profili Spotify e vedi solo al primo posto sempre quella canzone lì, no? La cosa bella è che tu non sai mai nella top 5, nella cinquina quali brani ci saranno e perché e tu hai la possibilità, andando ad osservare, di fare una sorta di statistica campione. Quindi se io vado nel profilo di Kenny West, io vedrò che in questo periodo al primo posto c'è questo brano qui, Hurt Lies, senza cuore. E questo è interessante perché ti dà una prospettiva su quello che il pubblico di quell'artista sta ascoltando in quel periodo maggiormente, perché potrebbe esserci veramente qualunque brano al primo posto. Non c'era questo prima dell'uscita di Donda, ad esempio. Ovviamente quando ci sono le uscite nuove ci si focalizza un po' lì, però poi quando il disco, soprattutto quando esci con un disco, che succede? Che comunque non è che tu ti vai a soffermare su un brano in particolare, esce tutto il disco, quindi magari tu stai maggiormente pompando quel disco, però magari c'è una traccia vecchia che risulta la più ascoltata del momento. Comunque questo ci dà delle nozioni sul pubblico dell'artista in quel momento storico. Il pubblico di Kenny West in questo periodo si sta pompando una canzone la cui traduzione è senza cuore. Ora, a parte questo, che è un aspetto sempre interessante, voglio andare un attimo a godermi il brano e a parlarne un pochino, perché anch'io l'ho riscoperto e ci sono andato un po' a ruota. Era il brano di cui avevo bisogno, ma non ne avevo idea, perché non ci stavo proprio ripensando. Vi invito a vedere il video di Kenny West a un live che praticamente la canta dall'alto, col pubblico che gliela canta sul muso, bellissimo video. Ma a parte questo, andiamo un attimo ad analizzare, perché è un testo molto interessante. Già la produzione, la cosa che mi stupisce di questo grande artista, è che comunque lui sperimenta, 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 gioca, ed è sempre senza tempo. Le sue canzoni, a parte magari alcune fatte tanti anni fa, puramente hip-hop, diciamo, e quindi magari possiamo definirle datate, ma datate non sono mai certe canzoni. Lui con brani come questo, veramente va bene oggi, va bene domani, risulta futuristico anche dopo vent'anni, perché comunque quando sperimenti in questo modo, non sei catalogabile in un genere, genere Kenny West, cioè quando ascolti i type beat alla Kenny West, capisci che comunque è uno, no? Un po' come i Daft Punk, sono unici. Lui mi ricorda un po' quel mood lì, diciamo, a livello di unicità sto parlando, non sto facendo un... non sto comparando i due artisti. Comunque, senza cuore, è interessante analizzarla, perché noi sappiamo che Kenny West è un personaggio che ha tanti problemi psichiatrici, soprattutto oltre al suo egocentrismo sfrenato, è proprio bipolare, insomma, e quindi di conseguenza è uno che vive le cose con un trasporto esagerato, esasperato. Stiamo parlando di uno che quando era nessuno faceva i beat, era in studio con Jay-Z che invece era il numero uno al mondo e diceva sono il rapper numero uno al mondo, cioè nel senso parliamo di un personaggio che ha fatto proprio di questo suo ego smisurato una carriera e va bene così e sono personaggi interessanti da analizzare anche in prospettiva di quello che scrivono. Ora, personaggi così, a livello sentimentale, come vogliono essere, vedono solo la loro campana e questo è interessante perché ovviamente un po' tutti quanti, non è che quando chiudi una storia ti viene spezzato il cuore, quindi ti ritrovi senza cuore, una persona senza cuore ferisce il tuo, non è che stai a fare mea culpa in una prima fase, vedi, diciamo, i limiti dall'altro lato e quindi di conseguenza uno come Kenny West che ti racconta quella fase fa proprio al caso tuo perché giustamente Kenny West in questa canzone attacca e basta. Già dall'intro che molto sembra tipo il prologo dell'Iliade, a un non so che di epico, nella notte la sento parlare della storia più fredda mai raccontata, ok, andiamo oltre, è bello, no? Questo senso di epicità. Ah no, lo sento parlare, quindi c'è una storia che parla appunto di sé ma si macchia, diciamo, da narratore. Da qualche parte lungo questa strada lui ha perso l'anima per una donna senza cuore, quindi è la donna senza cuore, non lui. Lui il cuore ce l'ha e come? Ed è molto dolorante. Comunque, come è potuto essere così senza cuore? Insomma, un classicone, no? Ovviamente in inglese rende di più se andiamo a vedere, però cioè non è che in italiano per fare una canzone e dire come puoi essere così senza cuore non rende come in inglese. Ora, come puoi essere così fredda? Come il vento invernale quando soffia? Ricorda solo che stai parlando con me e devi stare attenta a come mi parli, intendo. Sembra quasi una minaccia, ma dopo tutte le cose che abbiamo passato, intendo. dopo tutte le cose che abbiamo fatto e so che c'è qualcosa che non mi hai detto e che io ho fatto alcune cose ma oramai sono passate quindi il problema di questa storia è che lei ha un qualcosa di attuale. Anche lui ha commesso delle stronzate però sono passate e si intende dire che magari il fantasma rimane ma non sono più parti non sono più parte del presente quindi magari ho avuto un amante, esempio ma oggi non ce l'ho più tu invece ce l'hai ancora, no? Questo va in giro come se non mi conoscessi è un nuovo amico ecco qui, poi te lo dice ma alla fine io ho i compari ma alla fine è sempre triste insomma una classica canzone di chi viene cornificato brutalmente ma che comunque deve andare avanti deve tirare la carretta e allora fa un brano per sfogarsi attaccando la donna di turno ora ovviamente in questi casi uno appunto deve un attimo rendersi conto che magari certe circostanze sono anche causate da determinati comportamenti perché se tu hai dei fantasmi del passato che non sono più attuali però magari da quelli sono nati i problemi che hanno portato questa donna a diventare senza cuore ma era questo il fulcro che io volevo andare a toccare questo cioè l'artista e la sua spontaneità perché comunque nel momento in cui tu artista ti riempi di consapevolezze di razionalità non puoi più fare questa roba l'ho visto anche nel mio piccolo come artista in determinate in determinate situazioni diciamo oggi mi viene più facile magari chiudermi raccontarmi magari in un romanzo in un libro o in un podcast così improvvisato che in un brano perché per fare musica veramente serve quel trasporto quella roba quel dolore quel dolore che però tu non riesci a smaltire a cui non riesci a dare una spiegazione serve proprio quel dolore da ingiustizia così come invece proprio praticamente serve che stai volando e basta a livello musicale parlo proprio a livello stilistico non è che tu magari ti siedi lì e dici adesso scrivo a tavolino una hit sì ok magari se conosci il mercato con un team d'autori lo fanno lo faranno ma le canzoni le hit che restano nel tempo sono nate dall'incoscienza e dal e dal e dal dolore dall'emozione autentica provo una cosa la la butto sulla traccia senza pensarci due volte la scrivo in due minuti magari e la canzone diventa immortale perché è autentica e viene proprio da un sentimento che mi sta opprimendo scrivere per sopravvivere poi uno può scrivere centinaia di bellissime canzoni battiato ad esempio le sue canzoni più famose che lui non è che ha rinnegato però gli facevano simpatia poi con l'avanzare dell'età però le canzoni che ha scritto che hanno avuto più successo erano quelle quando era diciamo più giovane ma anche la cura che magari aveva un'età un po' più avanzata rispetto agli esordi però comunque sono canzoni dettate lì però i dischi storici di battiato quanti ne ha fatti che invece sono nati da un ragionamento sia magari musicale sia testuale in cui magari ha voluto raccontare un determinato periodo e l'ha fatto con la testa lui che prendo lui come esempio perché è una persona dalla grande consapevolezza però ecco aveva anche la grande capacità di stupirsi e lasciarsi stupire dalla vita che comunque lo ha portato a fare musica fino alla morte però ecco l'aspetto diciamo più commerciale se vogliamo anche se ai tempi il significato di commerciale era ben diverso veniva anche lì da degli istinti da una protesta molto differente no? quando appunto c'era una consapevolezza ma era ancora ingenua perché comunque insomma superata una certa età l'uomo lottando con se stesso arriva a capire chi è e quali sono i suoi i suoi fantasmi i suoi limiti Kenny West è un artista che non ha limiti da un certo punto di vista proprio perché ne è pieno come persona lui è uno che nonostante i miliardi riesce a fare un disco e a farlo come se questo appunto dovrà cambiare la storia lui è uno che non non pensa al denaro non pensa a certi aspetti pensa solo che attraverso la sua arte può davvero arrivare oltre i cieli perché è una persona sempre inquieta sempre problematica sempre sofferente e quindi sono artisti puri che non non si fanno comprare dal successo non si fanno fermare dal tempo per questo motivo è sempre interessante diciamo approfondirli e e non moriranno mai perché al di là del testo perché questo è un testo classico un testo semplice non è nulla di che ma è l'attitudine è il principio è il concetto finisce una storia e tu sei quella senza cuore e io ti canto il fatto che sei senza cuore senza soffermarmi un attimo su di me perché io sto soffrendo e sicuramente ho ragione ora se andassi da uno psicoterapeuta inizieresti un percorso interiore che magari migliorerebbe la tua persona ma ti toglierebbe la possibilità di scrivere una canzone così convinta diciamo perché iniziano i piccoli dubbi interiori quindi l'artista deve proteggere se stesso o distruggersi per rimanere tale finale